buongiorno a tutti siamo alle pendici del mitico fa d'alto prima volta che lo faccio con le gommine nuove ho appena regolato la pressione adesso vediamo come vanno sono con lui nicola a mio amico che abita vicino a me che ha il gs xs 750 come pieno di ca ma che cazzo porco giuda ma vai tutto bagnato il tornante a sole per fortuna e qua all'ombra yeah you ready hey let's go back ah Sì, stai facendo la moto e diventa verde Oh, viena a farlo apposta Che cazzo di scoppio era?! Si aveva uno sparo Ma veramente? Io ho fatto più un salto Dio, bea anch'io Era uno di quei due là sa di sì ma di quelle atomiche è quanto è bello entrare curva di traverso l'orco giuda ma non viva quanto largo era quanto largo era dietro metto all'ombra qua non c'è problema però intanto metto all'ombra sennò schiatto se no anche per le moto macchine sì sì perché la è proprio in entrare di curva roba che finisci siamo arrivati qua non c'era niente se arrivano sulle moto è che siamo arrivati su presto e dalle otto che siamo qua si volava grazie ciao paraga olio mamma mia penso si arrivava uno in moto paraga olio no 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 ma la buona no 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 ma i'm at my prime hey hey i'm at my prime whoa said i'm at my prime